In un minuto ci racconti perché la chimica. Io fin da bambino sono stato molto affascinato dalla scienza. Tra le altre cose ho una zia che è una chimica che mi ha regalato un piccolo chimico. Quando ero molto piccolo ho cominciato a giocarci molto velocemente. Già da allora ho capito di non essere molto portato per la parte sperimentale. Mi sono indirizzato molto di più verso la matematica e la fisica nucleare, che erano la grande passione di quando io stavo al liceo. Alla fine però ho deciso di fare gli esami alla scuola normale. Siccome venivo dal liceo classico non ero molto preparato, più che portato, per la matematica e la fisica, ho deciso di provare a fare l'esame d'ingresso in chimica. Sono stato anche ammesso agli orali, quindi mi sono iscritto all'università chimica. Poi non ho superato gli orari alla scuola normale e ho continuato la chimica. Però appena possibile sono passato dall'idea iniziale di fare biochimica, che era di gran modo in quegli anni, a uno studio più teorico e computazionale, un po' perché ero negato per il laboratorio e un po' perché questo secondava la mia passione verso gli aspetti più fisico-matematici. Qual è stata la scoperta più emozionante della sua carriera? Per quanto riguarda la scoperta più importante nel mio campo, di scoperte in chimica importanti ne sono state fatte moltissime. Per quanto riguarda l'Italia basta ricordare il premio Nobel di natta che ha portato alla plastica e ai polimeri e alla grande industria chimica degli anni Sessanta. A partire da quel momento si è sviluppata, secondo me, la capacità di simulare sul computer e anche per via grafica i processi chimici che avvenivano poi nelle provette o nella vita di ogni giorno. Questo è stato affascinante. Quando ho cominciato io eravamo in grado di studiare soltanto molecole semplicissime come la molecola di idrogeno, l'acqua, eccetera. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, per l'esattezza, sono avvenute fuori invece una serie di rivoluzioni sia dell'informatica e dei computer e sia dei modi di affrontare il problema che ci hanno cominciato a permettere di studiare invece sistemi complessi nelle loro condizioni naturali. Questa per me è stata una rivoluzione perché da allora non siamo più considerati delle persone un po' strane dai nostri colleghi chimici che stanno nei loro computer o a scrivere formule sui quaderni, ma delle persone con cui si può interloquire per avere, attraverso l'interazione e il dialogo, maggiore informazione sulle cose di interesse, sulle molecole di interesse, sui sistemi di interesse nella ricerca tecnologica e biologica contemporanea. A questo punto, cosa sogna di scoprire nei prossimi anni? Credo che la prossima rivoluzione che segnerà non solo la chimica teorica e computazionale o la chimica, ma tutte le scienze, sarà legata da un lato al cosiddetto problema dei big data che significa passare da una quantità di informazione mostruosa ma indifferenziata quale è quella che abbiamo oggi, a una sua analisi in maniera intelligente per trarne correlazioni e informazioni che non sono apparenti a prima vista. Questo richiede un grosso lavoro di interazione fra specialisti di informatica e delle varie discipline perché è chiaro che bisogna avere la doppia competenza, ma secondo me porterà una vera rivoluzione nell'approccio scientifico e a fianco a questo la cosiddetta realtà aumentata o realtà virtuale che consentiranno un approccio naturale con tutte le problematiche scientifiche in cui non ci sia un'interazione indiretta con strumenti quali tastiere, mouse, quaderni, penne eccetera ma permetterà invece di muoversi in maniera naturale in mondi che non sono quelli che noi conosciamo e che cadono sotto i nostri sensi. Per esempio potremmo muoverci all'interno delle molecole da un lato o delle galassie per parlare di una cosa che non riguarda direttamente noi come se fossimo nella nostra vita reale. Questo ha delle implicazioni evidenti perché l'interazione del nostro cervello con la realtà naturale è molto maggiore e molto più diretta di quella che richiede un intermediario matematico, fisico-matematico indiretto. Questo secondo me porterà un'altra rivoluzione.